Non dovevamo arrivare a questo punto del campionato, in questa situazione, perché sapevamo che abbiamo meno qualità degli altri. Abbiamo l'opportunità per fare 6 punti, possono fare anche gli altri, quindi potremmo arrivare tutti quanti a 41, però speriamo che non sia semplice vincere a Matera, perché Matera di per sé è stato sempre un campo molto ostico, quindi speriamo che poi quando il Monopoly vada a giocare a Matera non abbia una partita semplice. Questa è una batosta non indifferente, sicuramente, però ci sono ancora due partite, abbiamo la possibilità di fare 6 punti, poi vediamo, come dicevo anche prima, gli altri faranno ancora 6 punti, poi alla fine faremo, tireremo le somme. C'è da dire che come nella vita, quando si commettono gli errori anche del calcio si pagano, e quindi speriamo di non pagarle fino in fondo.